Gentili telespettatori, un cordiale benvenuto da Alessandro Tiberti e Stefano Mappa, responsabile comunicazione e marketing della Federazione Italiana Sport Orientamento, quest'oggi ancora insieme per commentare la gara long dei campionati mondiali master di corsa orientamento. Un saluto a te Alessandro e a tutti i nostri telespettatori. Con le immagini ecco il Piemonte, ecco il Sestriere in provincia di Torino tra le montagne olimpiche nel compensorio scistico della Via Latte ad all'alto dei 2035 metri, il comune di Sestriere si trova sul colle omonimo a cavallo della Valchisone e della Valchisone. La presenza di ben tre parchi naturali sui diversi versanti del Col Sestriere testimoniano la presenza di un importante patrimonio ambientale per questa occasione palcoscenico di un grande evento sportivo. Esattamente Alessandro, questo campionato mondiale master di corsa orientamento non poteva trovare quale migliore location in questo suggestivo angolo d'Italia, capace di ospitare oltre 2800 atleti provenienti da tutto il mondo. Insomma, un'occasione quindi per vivere una settimana nel pieno spirito della passione amatoriale. Ed è infatti importante precisare che la manifestazione rientra nell'ambito del programma gare dei World Master Games Care Mass sportiva che ha visto la partecipazione complessiva in 30 discipline sportive di circa 19.000 atleti. Una partecipazione imponente e significativa per le amministrazioni comunali che hanno ospitato i singoli eventi. E dopo i giochi olimpici del 2006, i comuni di quest'area del Piemonte hanno ormai una grossa esperienza nelle manifestazioni di questa portata. E allora, prima di seguire le fasi importanti di questo campionato mondiale master, e intanto ancora immagini suggestive che arrivano dal Sestriere, andiamo ad ascoltare il presidente del comitato organizzatore che è anche il sindaco del comune di Clavier, intervistato il giorno prima della gara Long, il dottor Franco Capra. Andiamo dunque a sentire questa intervista realizzata. E intanto qui, ultime inquadrature. Franco Capra, sindaco di Clavier e presidente del comitato organizzatore dei WMOC 2013. Sì, è un grande piacere, un grande onore che i miei colleghi sindaci abbiano ritenuto che fosse all'altezza di questo gravoso ma piacevolissimo compito. Il nostro territorio è stato invaso da una moltitudine di atleti che ci hanno favorevolmente impressionato per il loro grado di civiltà, di sportività, di pulizia. Veramente non è facile avere delle persone così simpatiche, piacevoli e che dimostrano di gradire tutta l'accoglienza che abbiamo saputo mettere in campo. Mi sembra di essere tornato ai tempi delle Olimpiadi, c'è stata veramente una festa, una comunione di intenti, tutti hanno lavorato per quello che fino ad oggi, facciamogli scongiuri, si è dimostrato una sfida vincente. Belle gare, appassionanti, tutti soddisfatti e quindi quale maggior contentezza può avere il presidente di un comitato organizzatore che ha avuto a suo fianco ovviamente validissimi collaboratori senza i quali non saremmo riusciti a fare quello che stiamo terminando e che domani terminerà con la gara più importante, la Longa in un affascinante luogo che d'inverno è meta di sciatori che percorrendo la Via Latte attraversano sia i comuni di Clavier, di Pregelato, di Sestrier, di Sausen, quindi tutti i nostri comuni coinvolti dell'evento. Senza dimenticare Bardonecchia che fa parte di un altro compressor scilistico ma che anch'esso ha tutta una serie di attrattive turistiche sportive che fanno sì che questo territorio sia veramente per tutti. E allora Stefano, con le immagini siamo tornati tra i boschi del Sestrier, prima di iniziare a commentare la prova finale di questi campionati mondiali Master che ricordiamo facenti parte del programma sportivo World Master Games, cerchiamo di ricostruire brevemente il calendario delle gare di questa lunga settimana e quindi capire quali i titoli mondiali che saranno assegnati. Allora, nelle giornate del 4-5 agosto si sono svolte rispettivamente a Pregelato e al Sestrier le qualificazioni sulla distanza sprint. Comunque la prima giornata ha visto la presenza in gara di 2.459 atleti di cui 1.519 uomini e 940 donne. 13 le categorie iscritte dagli 5 addirittura ai M95. Quest'ultima con un solo atleta, lo svedese Rune Haraldson, mentre tra le donne l'unica rappresentante over 90 era Anderson Astrid. Beh, tra i partecipanti c'era anche una conoscenza davvero antica dello sci alpino, ormai convertita all'orienteering. Si tratta di Peter Müller, che ricordiamo essere stato uno specialista dello slalom gigante, della libera e della combinata negli anni. Allora, andiamolo a sentire in questa breve intervista che è stata realizzata. Un passaggio dal mondo dello sci a quello dell'orienteering per il grande Peter Müller. Ho scoperto questo nuovo sport, dice Müller, e mi sono appassionato grazie agli amici. Mi è piaciuto da subito e mi permette di mantenermi in buona forma utilizzando mappa e bussola. E allora, buona salute e in bocca all'uva a Peter Müller. Stefano, facciamo il punto sui nostri atleti? Certamente, Alessandro. Nelle varie categorie maschile e femminile erano iscritti circa 50 italiane, tra questi Milena Grifoni si è classificata al secondo posto tra le V45 e Rolando Pin e Fabio Cattaneo si sono rispettivamente piazzati al tredicesimo e al sedicesimo posto negli M35, Mauro Fontanari secondo nel M60C ed infine Gianluca Carboni in corso in una finale, chiaramente nella finale, negli M45. Comunque molti rappresentanti del Trentino. Ma torniamo al programma gare, dicendo che nelle giornate del 7 e dell'8 agosto invece si sono tenute a San Sicario le prove di qualificazione per la finale long di quest'oggi che vi proponiamo di Clavier Cesano. Facciamo anche il punto sui partecipanti e sull'organizzazione tecnica di questa prova. Sì, 2.553 partecipanti, anche qui 13 categorie, tra gli azzurri presenti alcuni di essi si sono anche cimentati in altre discipline come 65 anni Elisa Calcic ai World Master Games ha partecipato nel triathlon oppure il torinese Paolo Del Colle, 48 anni, iscritto addirittura in sei discipline dal Ping e Pong dove è stato peraltro l'atleta della nazionale in Serie A nei primi anni 90, al golf, all'atletica leggera, nel duathlon dove proprio ha vinto peraltro una medaglia d'argento e oggi nell'orientiere. E allora, la direzione della gara è curata dal signor Bianchi, il funzionario delegato tecnico affidato al Gian Domenico Di Francesco. Come consuetudine nei nostri spunti su quelle che saranno le caratteristiche del terreno gara, ecco l'intervista realizzata al tracciatore della prova long. Marco Seppi è un campione dell'orientiering, azzurro, oggi però nelle vesti di tracciatore. Quali le difficoltà su questo percorso? Sì, oggi è una veste diversa e i concorrenti incontreranno sicuramente un terreno molto interessante, molto bello, un terreno molto adatto all'orientamento e che ricorda quasi alcune zone nascoste a cui siamo meno abituati in Italia, ma quella particolarità è di avere le montagne sullo sfondo. La difficoltà è legata sia alla tecnica dei tracciati, ovvero il fatto che incontreranno delle zone differenti, sia alpine di bosco, ma sia anche parecchio dettaglio di collinette e di zone abbastanza umide, per arrivare addirittura ad una zona in quota di 2300 metri in una zona aperta, con vegetazione solo bassa. Credo che questa sia la peculiarità del terreno, ovvero il cambio attraverso zone differenti e anche la difficoltà di incontrare una quota piuttosto elevata rispetto a quello che siamo abituati in tutto l'orientamento. Ecco, avete posato punti per tante categorie con caratteristiche diverse, un lavoro complesso con una squadra che è fuori nel bosco da molte ore. Sì, abbiamo dovuto posare percorsi per 13 categorie d'età, sia per gli uomini che per le donne, perché i percorsi vanno dalla categoria di 35 anni fino addirittura per gli uomini di 5 anni. Ciò significa differenziare molto le tratte che i concorrenti percorrono, in modo naturalmente da non sovraffoliare alcune zone e ciò richiede anche un lavoro abbastanza lungo di preparazione e pose che abbiamo fatto dalla giornata di ieri e dalla giornata di oggi, e in maniera tale darà sempre sotto controllo che tutti i punti fossero posati, controllati, attivati in maniera corretta. Per fare questo normalmente siamo usciti con squadre di una quidicina di persone. Un lavoro importante, ma che comunque conferma l'attenzione degli organizzatori a tutti i partecipanti, quindi Orienteering, uno sport per tutti, per chi trova il suo percorso con difficoltà adeguate. Assolutamente, ci sono molti partecipanti in ogni categoria d'età, quindi tutti trovano sicuramente lo stimolo per la propria finale, per la propria competizione, nonché corrono per categorie d'età molto differenti tra di loro e quindi davvero uno sport dato a tutti. Marco Sepi, che è un tracciatore e un agonista, ci può anche spiegare il piacere di praticare questo sport? Il piacere oggi è legato, secondo me, proprio alla presenza all'interno di una natura incontaminata, una giornata stupenda. Trovarsi all'interno di questi eventi e trovare la propria strada tra diverse fiumiciattoli, collinette, con queste montagne sullo sfondo, penso che dirà una soddisfazione unica. E allora, come di consueto, andiamo a conoscere la cartografia che quest'oggi gli atleti, elite, uomini e donne utilizzeranno in gara. In ragione delle 13 categorie iscritte al mondiale avremo sia per i maschi che per le donne percorsi con caratteristiche diversi. Comunque, essendoci in gara top e tante categorie, oggi concentreremo la nostra attenzione in particolar modo sulla categoria Woman Man 35 e sugli italiani che saranno in gara. Eh sì, l'abbiamo sentito dal tracciatore, molte difficoltà per le molte presenze sul percorso. La carta che vediamo in video è quella categoria Maschi e Femmine 35, a una scala di 1 a 15.000, quindi un centimetro, 150 metri. Il tracciato misura 10 chilometri e mezzo, il terreno a un dislivello di 570 metri, punti da individuare 26, stiamo parlando chiaramente del percorso maschile. In pratica, sommando la lunghezza in linea d'aria del tracciato al dislivello, quest'ultimo moltiplicato per 10, avremo la distanza reale che ciascun atleta deve percorrere. E questo meccanismo viene utilizzato perché ovviamente sono diversi i percorsi, quindi per avere una linearità, una univocità. Il percorso della medesima categoria femminile ha invece una lunghezza di 6.800 metri, un dislivello di 260 con 22 punti da trovare. In questo caso ho fatto un conto molto rapido, il percorso reale di 9,4 km, mentre quello degli uomini era molto lungo. E allora Stefano, con le immagini passiamo adesso in zona partenza, vediamo i concorrenti ultimare i preparativi in vista del via. Bene, ricordare che in questi campionati erano presenti soltanto alcuni italiani che comunque si sono ben comportati e comunque li andremo a seguire in maniera abbastanza dettagliata. E cominciamo a seguire forse una delle più belle presenze, possiamo dire così. Runa Haralson, 95 anni, fa Orienteering da quando ne ha 15, ha partecipato a 10 mondiali Orienteering, punta al prossimo mondiale in Brasile, ma qui vediamo la partenza di Rolando Pinna, Milena Grifoni. Questi sono gli italiani che seguiremo in maniera particolare quest'oggi, anche perché dalle qualificazioni hanno conquistato l'accesso alla finale. Una cosa che non ho detto è che il signor Haralson, 95 anni, è arrivato in camper dalla Svezia con la moglie Margarete di 93. Si allena due volte alla settimana e d'inverno pratica sci di fondo. Complimenti. Ecco un'altra delle candidate della MW35, Yvonne Gunel. Abbiamo visto anche partire un atleta della Finlandia. Qui abbiamo Beatrice Aschliman, Svizzera. E naturalmente al mondiale sono giunti tantissimi atleti provenienti da tutto il mondo. Tra questi ne figurano alcuni di altissimo profilo tecnico, come già detto, anche molti anziani. Nel primo caso la categoria di riferimento è quella degli M e W, quindi maschi e femmine 35. Tra questi evidenziamo il finlandese Petteri Muekonen, il danese Klaus Hidlgeil. Tra le donne segnaliamo Yvonne Gunel, che abbiamo visto alla partenza. La britannica Sarah Rollins, mentre salendo di categoria Sanna Niemal, finlandese, Tenna Nogard Landsberg, danese, Olga Volkina, russa e la campionessa mondiale sprint, la rumena Veronica Minolo. Tra gli uomini Karl-Henrik Björset. Tra gli più anziani, come abbiamo detto, oltre al 95enne svedese Rune Harald. È importante evidenziare la presenza del connazionale 92enne Astrid Anderson, l'australiano Paul Adrian, tra i novantenni lo svizzero Jacob Huge e l'Eston Richard Ruden. Ma è importante anche evidenziare, come abbiamo detto, gli azzurri che sono presenti. Abbiamo Gianluca Carboni nella 45, Rolando Pinn nell'M35, De Lauri Tarso e Milena Grifoni nella V45. Insomma, davvero tanti i concorrenti, no? Sì, sì, poi è importante evidenziare che Rolando Pinn è un atleta che ha già ottenuto ottimi piazzamenti nelle passate edizioni dei mondiali e master. In particolare, ricordiamo, l'ottavo posto in Australia nel 2009 e Apex in Ungheria nel 2011. Allora, abbiamo accennato che Massimo Bianchi ricopre l'incarico di direttore di gara del mondiale e allora, tra qualche istante lo andiamo a sentire in questa intervista, mentre nel frattempo scorrono gli atleti e stiamo vedendo come il fatto che l'età avanzata, insomma, non dia proprio nessun tipo di problema. È davvero splendido questa attività che offre molte opportunità, anche in età decisamente più mature. E allora, eccoci all'intervista di cui vi abbiamo parlato con Massimo Bianchi, direttore di gara del mondiale. Andiamo a sentire. Un evento complesso come il campionato mondiale master ha bisogno anche di un regista di esperienza, in questo caso direttore tecnico Massimo Bianchi. Sì, il mondiale master è una grandissima macchina organizzativa, perché comunque sono 2800 partecipanti e con tantissime categorie di gara. Io come direttore di gara ho gestito... Al momento che uno chiudeva la macchina nel parcheggio della gara, fino a che non la riapriva, era mio compito organizzare il migliore evento possibile. Quindi, sia a livello di partenze, con la squadra di Leonardo Curzio, che ha coedeguato al meglio un gruppo di 40 volontari, sia il mio gruppo tecnico di posatori di lanterne nel bosco, di 16 persone, capitanate anche lì da Rodolfo De Ferrari. E la zona di arrivo, capitanata da Roberta Frattini, siamo riusciti a fare un evento degno di un mondiale master. La complessità di questo mondiale master è l'organizzazione di più percorsi e tenere sotto vada tutte queste 2800 persone. In corrispondenza di tutte le tecniche abbiamo anche coedeguato un ottimo piano sanitario, grazie al dottor Simone De Giorgi, e abbiamo posizionato una cosa impressionante per una manifestazione d'orienteering, con 7 punti di sanitario all'interno del bosco, per controlli continui. Così l'atleta era anche sicuro di eventuali punture di vespe, o c'è stata anche una rottura di una gamba, però è tutto risolto, nel più breve tempo possibile. Bene, allora Stefano, è un impegno molto delicato per gli organizzatori, che richiede professionalità, anche in questo caso attenzioni verso alcune categorie di concorrenti, magari un po' maggiori rispetto a quelle normalmente dedicate ai professionisti. Torniamo alla gara, cerchiamo di capire come stanno andando le cose. Nella M45 di Gianluca Carboni il percorso misura 8 km e 100 metri, presenta un dislivello di 485 metri e questi sono i punti di controllo. A metà gara il presidente della delegazione Ligure, che ricordiamo essere stato anche la scorsa settimana l'organizzatore della 5 giorni degli Appennini, viaggia intorno alla quarantesima posizione su 62 iscritti. Invece il portabandieri dell'Oritazio, Rolando Pin, nella categoria Master 35, gareggia su un tracciato lungo 10,5 km, 570 metri sono il dislivello e 26 invece i punti di controllo. Ottima la sua prestazione provvisoria, tanto per mostrare al 13esimo punto la undicesima posizione su 32 atleti. Infine Milena Grifoni, nelle donne 45, sta affrontando un percorso di 5,5 km, un dislivello di 235 metri e i 16 i punti da trovare. Dopo un avvio veloce, tanto da portarla al secondo punto in testa della prova, ha perso qualche posizione a metà gara, la troviamo in 18esima posizione su 27 atleti. Ma come abbiamo precedentemente visto, la nostra attenzione è orientata verso la categoria maschi e femmine 35, dove figurano i grandi nomi dell'Orientiering Mondiale e tra gli uomini il finlandese Petteri Mükkonen, dopo un avvio poco brillante che ha visto Salmenoia Samuli prendere la testa della gara nei primi due punti, dal terzo punto di controllo si insedia saldamente in prima posizione. Al momento siamo al tredicesimo punto, la mantiene con grande determinazione con un vantaggio di oltre quattro minuti su Hallingall Block Klaus, l'inglese Lian tra le donne invece, la finlandese Gunel, sembra fare gara a sé, sin dall'inizio della prova mantiene il primo posto a metà gara, cioè all'undicesimo punto, ha un vantaggio di 3,30 sulla svizzera Eschliman e 5 sulla finlandese Virta Eli. Ed ecco Rune Aralson. Rune Aralson, bellissima, bellissima questa immagine, davvero splendida. Si porta a punzonare l'ultimo punto e a tagliare quindi il traguardo tra l'applauso di migliaia di spettatori e devo dire che ci sono state molte televisioni che l'hanno anche intervistato, compreso Rai Regione Piemonte. Ci credo, ci credo. 95 anni, complimenti a lui. Ed ecco che incominciano ad arrivare i primi atleti. della 35. Esatto, Piccala Sine, la finlandese. Ecco, Sine Peccala. È il suo arrivo naturalmente affaticato. Yvonne Gunel, Finlandia. Ecco. È lei che vincerà la categoria V35 con 57 minuti e 59 secondi. E questo invece è il vincitore dell'omologa, ma al maschile, Petteri Mükkonen. Eccolo Roland Pinn. Roland Pinn che si va quindi a insediare in undicesima posizione e ha ricoverato molti posti. Doppio successo per Petteri Mükkonen in Finlandia che dopo la gara sprint vince anche la gara long. Un trionfo. Beh sì, è una seconda vittoria dopo quella nella sprint. Per me si è trattato quasi di una vacanza con un lesso allenamento. Di fatto questo successo non cambia la mia stagione e non è così importante. Per te un passato importante presentati. Io nel passato ho rappresentato la Finlandia ai campionati del mondo assoluti nella middle distance e nella sprint, dove ho ottenuto come miglior piazzamento un diciottesimo posto. Oggi quali erano le caratteristiche del terreno e gli avversari più pericolosi? Beh, la gara. Abbiamo gareggiato su un terreno molto difficile da interpretare, duro dal punto di vista fisico, mentre per quel che riguarda gli avversari posso dire che sono tutti nomi noti. alcuni non li conosco personalmente, ma mi sono tutti comunque familiari. Ed ecco la classifica maschile di Petteri Munchonen davanti a Jan Locatelli, svizzera, e all'inglese Nick Barabal, 1 e 11 e 44, 5 minuti e 20 di margine. Quindi questa la dice lunga di quel che ha detto poi Petteri. La vincitrice della categoria V35 viene della Finlandia ed è Yvonne Gunel. Sì, sono Yvonne Gunel, vengo dalla Finlandia, sono insegnante di biologia e geografia. Ho 39 anni, sono felice di praticare questo sport. Sono stata nella squadra nazionale dieci anni fa, anche se non ho partecipato ai campionati del mondo, ho invece preso parte ai campionati europei e ai campionati nordici. Oggi qui in Italia hai trovato un terreno favorevole? Credo che i terreni italiani siano molto differenti rispetto a quelli della Finlandia, perché non sono così ripidi. Però in altre occasioni ho gareggiato in terreni analoghi a questo. Sicuramente si tratta di un modo differente di fare orientering. In Finlandia ci sono molti più dettagli, mentre qui ci sono molti più pendi. In teoria è un modo più semplice di orientarsi, ma qui nella pratica non è così facile gareggiare qui. Eri una delle favorite e hai rispettato il pronostico contro avversari agguerrite. Forse ero una delle favorite. Devo dire che già tre anni fa avevo preso parte a questo tipo di evento in Svizzera. Mentre i primi due anni non ho partecipato, quindi poteva esserci l'incognita di nuove avversarie. Ed ecco qui la classifica. Comunque l'incognita di nuove avversari. Van Gjunel ha affibbiato quasi 15 minuti di margine alla Schliemann e a Pirta Ellie Rastikarut, sempre finlandese come lei. Allora, questa è la classifica, adesso i sindaci del Sestriere e di Cesana del presidente della FISO, Mauro Gazzerro. Walter Marin e Colom, rispettivamente sindaco di Sestriere e di Cesana. Un bilancio per voi? Ma estremamente positivo, perché per noi località montana estiva a 2000 metri di quota, a questi grandi eventi internazionali, anche di sport meno conosciuti, ma dove c'è veramente molta etica dello sport, ci ha portato grandi soddisfazioni, perché per noi ha significato 30.000 presenze alberghiere. E direi che in questi momenti qua questo è oro. Mentre per Cesana? Guardate, questa questione per noi è stato un bilancio molto positivo. Tutte le persone che sono venute, sono 30.000 presenze sul territorio, si sono comportate in una maniera impeccabile, persone che veramente hanno conosciuto e riconosciuto il nostro territorio valido per qualsiasi tipo di manifestazione. L'augurio che faccio è quello di poter ospitare prossimamente di nuovo campionati di questo livello. Eccoci qui alla premiazione dei vincitori delle varie categorie. Noi nel frattempo siamo in attesa poi naturalmente di proporvi anche l'intervista a Mauro Gazzerro. È importante precisare che nel contesto di questa cerimonia c'è stato il passaggio dalla bandiera dal presidente del comitato organizzatore dei master. Eccola qua. Esatto, e il franco capra, il sindaco della città brasiliana di Canela, Cleoporto. Ecco il nostro 95 anni. Mauro Gazzerro, presidente FISO, una FISO che ha espresso grandi numeri a questi mondiali master. Un mondiale master importante. Abbiamo trascorso una splendida settimana qui sulle montagne olimpiche. Quattro gare di qualifica, due model event, due gare di assegnazione titoli per la long e per la sprint. Direi un evento completamente e perfettamente riuscito con oltre 3.000 partecipanti da tutto il mondo. Prima nel 2014 però si va in Calabria e poi in Lombardia per i campionati italiani. Certamente saremo in Calabria a fine mese in occasione del trofeo delle regioni, altro appuntamento importante proprio per rappresentative regionali. E poi a settembre chiuderemo questa intensa stagione con i campionati italiani assoluti all'Aprica. E allora Stefano, grande partecipazione, grande spettacolo dalle montagne olimpiche del Sestrier. Quest'oggi è l'edizione 2013 dei Mondiali Mastering che ricordiamo ai nostri telespettatori essere stata una delle 30 discipline del programma generale dei World Master Games disputatasi per tutta la settimana in Piemonte e si esaurisce qui su questo incantevole e suggestivo territorio, quello cioè del comprensor scistico Via Latte a cavallo tra la Val Chisone e la Val di Susa. Indubbiamente una bella manifestazione, ben organizzata e soprattutto ha dato ulteriore promozione a un territorio molto vasto, molto bello come quello appunto del Sestriere, dopo soprattutto i giochi olimpici. Comunque una grande opportunità per il movimento orientistico italiano per dimostrare ancora una volta la capacità organizzativa delle nostre società sportive. E allora ricordando ai nostri telespettatori che la Fiso è raggiungibile attraverso il sito www.fiso.it non ci resta che salutare e ricordare quale sarà il prossimo appuntamento televisivo con RaiSport? 24-25 di agosto il comune di Saracena in provincia di Cosenza ospiterà una delle manifestazioni del calendario federale 2013 e cioè il trofeo delle regioni, gare che si disputerà su una prova individuale ed una a safetta e che vedrà le rappresentative regionali. Grazie a Stefano Mappa, grazie a Sabino Bilanzuoli che ha curato la parte tecnica della nostra trasmissione. Da Alessandro Tiberti è tutto, grazie e buon proseguimento con i programmi di RaiSport. Grazie a Stefano Mappa, grazie a Stefano Mappa, grazie a Stefano Mappa.